Questo dispositivo consente di inabilitare le capacità motorie di un soggetto particolarmente pericoloso, perché è armato di coltello oppure di bastoni, per il tempo strettamente necessario a disarmarlo e metterlo in sicurezza, al fine di tutelare l'incolumità di terze persone. È il Maggiore Vito Massimiliano Grimaldi, comandante del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Bologna, a spiegare ai militari che coordina, venti formati e abilitati, l'uso del taser, l'arma a impulsi elettrici. Da mercoledì saranno loro a iniziare la sperimentazione di questo dispositivo, che verrà portato in cintura e usato, in caso di necessità, per inibire i movimenti dei soggetti colpiti. Tre mesi di prova in tutto. Il tiro è efficace dai 3 ai 7 metri. Prima dell'uso, i carabinieri sono tenuti a segnalarlo, eventualmente mostrando quello che in gergo tecnico viene definito Arc Warning, un contatto elettrico. La pistola emana impulsi a bassa intensità. L'emissione di due dardi, che saranno collegati a due fili, che emetteranno un'energia elettrica che immobilizzerà, inibirà il soggetto aggressore. L'uso del taser verrà monitorato. Attraverso ovviamente un software che è inserito nei computer del nostro reparto e ogni qualvolta verrà utilizzata l'arma, un dispositivo che all'interno dell'arma verrà scaricato nel software all'interno del computer e da lì avremo la traccia, momento per momento, dell'utilizzo della pistola. Tra le nozioni del corso, anche alcune di pronto soccorso. I militari dell'arma che useranno la pistola se la scambieranno per il momento nei vari turni di controllo del territorio. Uno strumento che sicuramente renderà più efficace l'azione dei nostri carabinieri per rendere ovviamente inoffensive minacce da parte di aggressori.